E' il momento delle previsioni del tempo, il TG5 torna alle 18 e poi alle 20. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti. Buongiorno e benvenuti al TG5. Per l'Europa oggi è il giorno del via ufficiale al Fondo Salva Stati, lo strumento scelto dall'Eurogruppo... ...è scattato questa mattina, agli arresti sono... ...inviato Matteo Berti. E' il momento delle previsioni del tempo, il TG5 torna alle 18 e poi alle 20. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti.